fuori gioco fuori gioco di Corpia, non fischiato Corpia è solo, Corpia salva, salva sulla linea salva, mamma mia Gianluca sei papo natale forza, forza salvataggio in estremis salvataggio in estremis mamma mia, cosa stiamo vedendo è una partita che non finisce mai però non si possono perdere questi palloni ma mica la vogliamo perdere ma mica la vogliamo perdere Corpia ancora, Corpia ancora attaccato, perde palla Corpia senza fallo, la recupera il pallone Gargano, vieni avanti, forza forza Gargavella, vieni avanti, non fermarti non fermarti Napoli 47 e 30 vai Matador vai Matador una delle due una delle due matador gol 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 ieri, oggi e domani segna sempre Matador Cavani mamma mia che goduria che goduria che goduria e intanto abbiamo anche rivisto il salvataggio di Gianluca Grana netto e pulito che god è finita è finita secondi in classifica con Cavani Re di Napoli con Cavani con Cavani Re di Napoli con Cavani eser Grazie a tutti.